Ciao a tutti ragazzi, questo è il primo giorno di dicembre e faremo un'esplosione con la prima TNT è la Instant TNT, ne metteremo prima una, poi 10 e poi 100, una, è già morto un cavallo, ora ne mettiamo 10, questa TNT comunque vi ho detto che esplode appena la accendi, queste sono 10, ora ne mettiamo 100, 100 qualcosa oppure meno, non so precisamente, questa TNT è molto utile per fare una catena di esplosioni tutte insieme, perché appena accendi uno esplodono tutte le altre, questo è di speciale in confronto agli altri TNT, secondo me queste sono 100, guardate che fila di TNT, forse anche di più, questo video secondo me è stato il più corto di tutti perché la Instant TNT esplode appena accendi, spero che vi sia piaciuto il video, il primo giorno abbiamo fatto il video con la Instant TNT, ciao!